Presidente Massimo Bitonci, lo svuota carceri arriva in Senato, un decreto voluto dal governo Letta per svuotare le carceri. La Lega Nord si oppone con tutti i mezzi perché dice che chi sbaglia è giusto che paghi e rimanga dietro le sbarre. Ma questo è un provvedimento inutile che diminuisce gli anni di carcere un po' per tutti quanti i reati. Noi non pensiamo che queste siano soluzioni come anche il provvedimento che è appena stato approvato in prima lettura alla Camera. Sono molto simili. Si cercano di trovare delle situazioni, delle soluzioni con delle norme tampone che non vanno assolutamente a risolvere in maniera efficace il problema del sovravellamento carcerario. Abbiamo avuto ben tre indulti. Sappiamo che la posizione della Lega Nord è stata quella contraria all'indulto anche perché non sono serviti assolutamente a nulla. L'ultimo indulto c'erano 65.000 detenuti nelle carceri. Con l'indulto ne sono uscite 25.000 e dopo pochi anni siamo allo stesso problema. Siamo tornati a una popolazione carceraria di 65.000 persone. Quello che ho detto nel mio intervento oggi in aula è che questo governo dovrebbe trattare soprattutto con gli stati europei, parlo della Romania, perché i detenuti che sono presenti nelle nostre carceri, sono ben 65% i detenuti stranieri nelle carceri del nord, scontino la propria pena nel paese d'origine. Basterebbe fare una convenzione, magari anche pagare una piccola somma. Con quello che ci costa un detenuto nei nostri carceri io penso che pagando un terzo, un quarto, un contributo al paese d'origine, si potrebbe risolvere il problema in maniera più sostanziale del soffollamento carcerario. Questo non si può fare, non si vuol fare. Si fanno questi provvedimenti tampone. Avremo il problema che molti detenuti torneranno a scontare la propria pena magari a casa, magari davanti a un plasma, una bella birra ghiacciata, qualcuno di loro uscirà senza controllo e magari ripeterà gli stessi reati per cui è stato condannato. Noi pensiamo che questo sia provvedimento ingiusto e faremo un'opposizione dura.